Gara 2 del Formula Regional European Championship che vede scattare in pole position David Schumacher ma non è letto al via il pilota tedesco che vede invece spilare un Frederic Besti molto molto veloce che va subito a conquistare la testa della gara e poi in seconda posizione si piazza Igor Praga per buona parte della gara farà un po' da tappo a tutti gli avversari, cercheranno di sorpassarlo prima Zendeli e poi David Schumacher e questo è uno dei tanti attacchi, molti vanno a vuoto ma poi alla fine David Schumacher riuscirà a trovare il sorpasso nei confronti del campione dei giochi anche elettronici che si allena molto con il simulatore Fraga, ecco questo è il momento in cui Fraga deve cedere il passo a David Schumacher e poi commette una lieve sbavatura, qui l'applauso anche da parte del papà, il fratello di Michele Schumacher e poi una sorpresa perché arriva il drive-thru per David Schumacher per una scorrettezza commessa nel giro di formazione per un taglio di percorso, per un problema al turbo che ha avuto e poi Besti va a siglare l'ennesima vittoria, la seconda di oggi davanti a Zendeli con Hughes bravo a chiudere in terza posizione, Fittipaldi è quarto e con questo piazzamento mantiene ancora aperte le speranze per il titolo, ma solo per un punto grazie